marisciallo troppa gente dice che noi carabinieri siamo ignoranti che non andiamo a scuola che non sappiamo leggere nella vita ci vuole la cultura ebbè dobbiamo leggere dobbiamo leggere assai io sto leggendo il romanzo siamo i promessi sposi è bello si è bello lo conosco io invece sto leggendo il codice da vinci è molto interessante ve lo consiglio io invece marisciallo sono letta divina commedia sacci quasi tutta memoria brava brava mi fa piacere che tutti leggete la verità pure sto leggendo un po si e che leggere si sto leggendo un libro giallo e vi piace la verità non tanto perché è poca pallusilla non sa che i nomi non sa che i cognomi non sa che i numeri i numeri scusate ma che libro è le pagine gialle